Buonasera a tutti, ciao Mauri, ciao Mauri, vai a fare compagnia a mu, vai a fare compagnia a mu, a Roma, a Roma si piange, a Roma si piange. Oggi, oggi, una vittoria strameritata, se non c'era provvedendo, altra sacchetta, altra sacchetta. Il nostro unico problema è l'emergenza infortuni mandata a casa allo staff. Io vi ricordo che i preparatori di Vincenzo Montella furono licenziati per molto meno, furono licenziati per molto meno. Questi sono quattro anni che sbagliano la preparazione e diventiamo un lazzaretto. Oggi l'infortunio di Off-Tour Chic che si è fatto male nella zona del pub. Un massacro, un massacro. A parte questo, uno spettacolo, uno spettacolo. Un secondo tempo che sarebbe piaciuto al patron Silvio, con Adli in camera di regia, mai più fuori campo Adli. Adli sempre in campo, capito ste? Capito ste? Adli sempre in campo. Adli sempre in campo. Perché ha geometrie, qualità. Steng Innovation quando è uscito ste, vuol dire che noi ci capiamo di calcio e tu no. Aperto e chiuso a parelle. Comunque, oggi un secondo tempo spettacolare. Abbiamo sfondato. Se non c'era Provedella era un massacro. Finiva 4-5-0. E il gol dei Pulisi c'è stata una conseguenza di uno stradominio. Perché abbiamo letteralmente dominato. Secondo tempo la Lazio non pervenuta. Primo tempo più equilibrato. Primo tempo più equilibrato. Secondo uno stradominio. Secondo uno stradominio. Non c'è stata partita, vero Mauri? Vero Mauri? Perché a Roma non si sa chi fa più schifo. Non si sa chi arriva a Natale. Non si sa chi arriva ad Halloween. Quest'anno Antonio Conte c'ha l'imbarazzo della scelta. Napoli, Roma, Lazio. Perché non è che mi... Tengo paura di Garcia, insomma. Quindi, questo è. Però oggi hanno giocato bene tutti. C'è la difesa, anche se all'inizio un po' si è ballato. Il centrocampo. Musa quando è entrato. Teo Hernandez che ha fatto la faccia di razzis. Pulisic. Pulisic è tornato a segnare. Cioè, oggi non puoi dire niente. Cioè, da parte... La nota stonata per l'infortunio di Lofto Cic. È una meraviglia. Perché se vogliamo giocare, eh? Se vogliamo giocare. Il calcio c'è. La qualità ce l'abbiamo. Non dobbiamo farci male. Questo è. Non dobbiamo farci male. Non dobbiamo farci male. Altrimenti la rosa ce l'abbiamo. Ocaforre come alternativa va alla grande. Anche se io voglio balo. Voglio balo. E vinciamo tutto. Ma... Ma... Ocaforre è quello che ci serve. Perché può giocare punta. Può giocare esterno. Può mettere a destra e a sinistra. Ciuguenze di Dacambi. Insomma, abbiamo la rosa. C'è anche Romero che non può giocare un minuto. Cioè, guardiamo come siamo profondi. Se soltanto volessimo. E spero che trova spazio. Ma attenzione al Genova domenica prossima. Perché ha fatto soffrire la Roma. Quindi, non sottovalutiamo il Genova. Ma oggi una grande vittoria. Due sberle a Mauri. E se non c'era Provedel. Era un massacro. Perché ha salvato molte, molte occasioni Provedel. Se no era un 4-5-0. Senza scampo. Senza niente. Senza recriminazioni. Dobbiamo mantenere questa qualità. Perché se manteniamo questa qualità. E non ci facciamo male. Con le stronzate nostre. Voi sapete quali sono. Possiamo vincere la seconda stella. Possiamo. Io non dico vinciamo. Possiamo. Però non dobbiamo fare le nostre cacate. Emergenze infortuni. Cambio sceni. E tutto il resto. Perché la qualità. La rosa. Il gioco. Ce l'abbiamo sempre avuto. E questo bisogna dirlo. Anche perché oggi. Con Adli sventagliavamo. Con Adli sventagliavamo. Cioè la palla viaggiava. Cambiavi il gioco molto rapidamente. Veramente uno spettacolo. Ribadisco. Sarebbe piaciuto al Presidentissimo. Sempre attaccato. Sempre in pressione. E' così che si gioca. In Europa. Soprattutto. Ritmo alto. Intensità. Pressione. Recupero. Alla. Anche a costo di fare qualche fallo di troppo. Ma questo è la strada. Questa è la strada. Se riusciamo a inserire nel nostro mood. Qualche italiano in più. Qualche italiano in più. Vinciamo per i prossimi anni. De Belange. De Belange. Orsolini. Balotelli. Berardi. Qualcuno da mettere più. Camarda. Cioè. Qualcun. Qualche italiano in più. Anche se Pobega oggi è entrato bene. Non mi dispiacerebbe. Nel nostro mood. Perché se riusciamo a fare questa cosa qua. Ad aggiungere. A quello che già abbiamo. Vinciamo tutto. Tranquillamente. Però. E non soltanto. A. A chiacchiere. Come diceva Paolo Maldini. Ma proprio con i fatti. Possiamo vincere tutto. Possiamo vincere tutto. Ma calma. E' meglio la seconda stella. Poi vediamo. Però. Restando terra. Restando ad oggi. Una partita. Un secondo tempo. Meraviglioso. Se la condizione ci sorregge. Oggi il Milan ha dato una dimostrazione. Oggi il Milan ha dato una dimostrazione. Se diventiamo anche un po' più cinici. E le chiudiamo prima. Ma lui non ce n'è per nessuno. Oggi è veramente. Un segnale forte. Perché distruggere. La seconda in classifica. Che nel secondo tempo ha tirato soltanto tiri fuori. E Mignen si è guardato la partita. E' un segnale forte. E' un segnale forte che tu dai al campionato. L'hai distrutti. L'hai polverizzati. Se non c'era Provedella era un massacro. Li riempivi di gol. Cioè oggi hai dato un segnale. Che quello schifo nel derby. Che speriamo non si ripeta mai più. E soprattutto oggi abbiamo fatto noi il gol col centrocampista che viene da dietro. Vedi Stegg le cose. Se volete le fate. Perché non riesce a non farlo fare all'Inter. Oggi noi abbiamo fatto il gol col centrocampista che viene da dietro. Che abbiamo Pulisic che fa come vuole. Ed è un fattore. Oggi è veramente una grande partita. Non è veramente una grande vittoria. Perché dai un segnale. Dai un segnale forte al campionato. Ho distrutto. Ho quasi preso a pallonate la seconda dello scorso campionato. Che mi aveva polverizzato all'Olimpico. Ma attenzione al ritorno. Che sarà tra qualche settimana. Quindi però oggi. E riparisco in chiusura di questo video. Intanto vi rammento sempre di comprare la maglietta di Aghian Mr. Blogger Periani. Così vado a Milano pure io. E oggi è dato un segnale. Leao ecco. Forse l'unica nota stonata. Leao come al solito con le chianelle. Poi quando accelera. Purtroppo è così. Teo Hernandez grande partita. Insomma. Le nostre peculiarità. Le nostre peculiarità. Ma oggi va fatto un plauso. E mi metto in ginocchio. Mai più Adli fuori dal campo. Adli sempre in campo stè. Adli sempre in campo. Non ti assadda. Ma che torna cruni. Ci rimetterlo in panca stè. Non ti assadda. Se no. Te ne vai subito. Che hai visto che cazzo può fare. Se te lo inventavi prima. Se lo facevi giocare l'anno scorso. Non dovevo vedere lo schifo di bagaglio qua. A Monza. Tanto per farti capire. Tanto per farti capire. Quindi oggi solo cose positive. Solo cose positive. Anche la difesa che ha ben tenuto. Quindi oggi hashtag. Vittoria meritata. Ciao Mauri. A Roma. Scusate. Si gagne. Ciao a tutti.